Calvene, tamponamento a catena, coinvolge tre auto, una finisce la sua corsa in un cortile privato dopo aver abbattuto il cancello elettrico. Sono le nove quando un 74enne, la guida di una Suzuki, urta una Peugeot condotta da un 51enne di Kurtarolo che lo precede. Quest'ultima a sua volta impatta contro una Fiat 500 con a bordo un 67enne, nel frattempo la Suzuki con dentro il 74enne finisce nel cortile privato e rimane incastrato nelle lamiere. liberato dai vigili del fuoco è stato trasportato assieme ai 67enne della 500 al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso per accertamenti. Per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia locale nord-est vicentino.